Il tanto venerato apostolo Pietro era un assassino avido di denaro, l'assassinio di Anania e Saffira la dice lunga su come vivevano gli apostoli che non battevano ciglio di fronte a certe atrocità. È ricordato dai Vangeli e dalla tradizione cristiana come la pietra su cui Gesù avrebbe costruito la sua chiesa, come colui che lo tradì tre volte dopo il suo arresto, e come colui che nel subbuglio dell'arresto tagliò l'orecchio con la sua spada a Malco, una guardia del Tempio. Parliamo di San Pietro, primo papa secondo la tradizione. Ma chi era realmente Pietro, anzi, Simone il pescatore? Il Vangelo di Luca lo descrive come uno zelota, appartenente, a quel gruppo politico-religioso giudaico considerato terroristico dai Romani perché accaniti sostenitori dell'indipendenza della Giudea e dell'ortodossia integralista ebraica. Nei Vangeli viene definito figlio di Giona, traducendo in modo errato il termine Bargiona. La parola Bargiona, significa latitante. Anania e sua moglie Safira decidono di unirsi alla comunità degli apostoli e, per far questo, come da disposizioni di Gesù, va, vendi tutto quel che hai e dallo ai poveri vendono la loro proprietà e portano il ricavato ai piedi di Pietro. Ma trattengono una parte dei soldi. Pietro, che evidentemente aveva come in tutte le sette che si rispettino una efficiente rete di spie, rimprovera duramente Anania per questo suo comportamento e Anania, cade a terra e spirò. Quando arriva Safira Pietro le chiede dimmi, avete venduto il campo a tal prezzo? Ed essa sì, a tanto. E Pietro le disse ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito e porteranno via anche te. D'improvviso cadde ai piedi di Pietro e spirò. Come sono morti i due sventurati coniugi? Il primo a dirci cos'era realmente successo è Girolamo, vissuto tra il 347 e il 420 d.C., che fu l'autore della Vulgata, ovvero della Bibbia tradotta dall'ebraico in latino. Girolamo ricorda la severita Spetris Necantis Ananiam, ovvero la durezza di Pietro che uccise Anania e Safira. Grazie mille. Grazie a tutti.